Una piccola vittoria, non è sicuro se definitiva o provvisoria, ma intanto per due giorni a settimana lo sportello di Montepaschi ad Albairate rimarrà aperto. Lo annuncia il primo cittadino, Flavio Crivellin, che nel frattempo sta lavorando per arrivare all'installazione del Banco Matta Automatico. Le trattative che abbiamo condotto con Banca Montepaschi hanno prodotto il risultato sperato. Siamo riusciti ad ottenere l'apertura per due giorni alla settimana in orario mattutino della filiale, che altrimenti sarebbe stata chiusa definitivamente. Inoltre c'è stata prospettata anche l'installazione di un'apparecchiatura evoluta, dove si potranno fare tutte le operazioni di banca e stiamo vedendo anche l'eventuale dislocazione all'interno del cortile comunale.